Siamo alle pagine sportive per questo 4 ottobre, Perugia in primo piano perché stasera torna in campo la squadra di Oddo che nell'anticipo di serie B Alcuri contro il Pisa, seguiremo in diretta la gara nel corso della trasmissione Umbria Sport dai nostri studi di Gubbio e allora rialzati grifo, è l'inserto di oggi del Corriere dell'Umbria che in quattro pagine fotografa la gara Oddo il mio, Perugia C'è, dice il tecnico, pronto a ripartire dopo il KO di Empoli contro la squadra toscana Il grifo indecifrabile chiede spazio al camaleo Antico D'Angelo, bravo quando il ritmo è alto, meno nella gestione Non si può vivere di solo Iemmello, cercasi altri gol, il dato che emerge dopo le prime giornate L'attaccante calabrese ha segnato 6 delle 8 reti del grifo, nel reparto avanzato tutti a secco a parte Buon aiuto, questo per il Corriere dalla Nazione, io sono sereno, il mio Perugia C'è le parole di Oddo che torna sul K di Empoli e sul presente Il Pisa è una squadra valida, mentre il tecnico avversario dice servirà una partita intelligente E poi incubo Grifo, l'incubo anche per le inchieste che circondano la società Si sgonfierà di con i tifosi per ora fiduciosi, non vorremmo sia una caccia alle streghe Prevale la voglia di bel calcio e la convinzione che il campionato bianco-rosso non sarà penalizzato Dai casi Mancini, Santo Padre, Oddo fa quadrato, col Pisa serve massima Attenzione, i toscani sono una sorpresa, occhio a Gucker, ex Frosinone Ma noi andiamole a sentire le parole di Oddo dalla conferenza stampa di ieri Il problema sostanziale dell'ultima partita è stata che siamo stati per la prima volta un po' troppo lunghi Secondo me abbiamo avuto un po' di timore dei loro attaccanti Che ovviamente sono attaccanti molto bravi, che giocano su queste cose qua Tendevano ad allungarci e noi invece di lavorare con coraggio sulla palla Abbiamo lavorato di più sugli avversari E quindi ci siamo allungati un po' troppo In una di queste circostanze ad esempio è venuto fuori il primo gol Dove sostanzialmente la linea difensiva era in braccio al portiere Cosa che fino a questo momento non si era mai verificata e non si deve mai più verificare Perché quando ci si allunga si va sempre molto in difficoltà Abbiamo corso molto rispetto alle altre partite Ma abbiamo corso molto perché quando tu ti allunghi e non sei aggressivo in avanti Per forza di cose, essendo una squadra che vuole essere aggressiva in avanti Se tu aggredisci in avanti la difesa non segue E per forza di cose gli altri ricevono palla, si girano e tu devi fare 50 metri di corsa all'indietro Balic in questo momento non è quello che conosco io, ve lo posso assicurare Balic è un altro giocatore, in questo momento sta avendo delle difficoltà Ero convinto del contrario prima della partita, così siete contenti Però un allenatore va a sensazione anche da quello che vede negli allenamenti Purtroppo è andato in difficoltà per un po' di motivi Uno perché non sta benissimo, perché ovviamente aveva giocato poco fino a quel momento Perché la Serie B non è la Serie A Perché la B è un campionato diverso, un campionato dove ci vogliono delle caratteristiche diverse Bisogna mettere in campo magari più furore agonistico, più cattiveria Perché comunque in biti saltano addosso, in A non è così Il Pisa è una squadra solida, che sta facendo benissimo Che se la sta giocando con tutti, con chiunque Ha messo in difficoltà squadre anche più blasonate sulla carta Perché parliamo solo di carta E quindi in questo momento il Pisa è una squadra che sicuramente Ha messo in difficoltà chiunque e ha le carte per poter mettere in difficoltà anche noi Dovremmo essere bravi noi a farci mettere il meno possibile in difficoltà Stare attenti, avere rispetto di una squadra che sta facendo un grande campionato In settimana un paio di volte con il presidente Tre, quattro volte con il direttore sportivo Tutti i giorni con pizzimenti e mi sembravano molto sereni Quindi non credo che ci siano tutti questi problemi E queste le parole di Massimo Oddo Alla vigilia della gara di stasera Come detto, gara che seguiremo in diretta nel corso di Umbria Sport Parliamo di pallavolo, è tornato Max Colaci Dopo gli europei non fortunati per la squadra azzura Che si è fermata ai quarti di finale Dai Sir, si può vincere tutto Primo giorno di allenamento Puntiamo a tutto Dice mai chiaro, ci sono gli avversari Abbiamo una rosa più completa Io a 34 anni mi sento ancora benissimo Intanto, Fabio Bovari, tecnico della Bartocini Perugia Premiato come miglior coach in A2 La Pascucci, Gualdese, torna tra le magliette nere Dice eccomi a casa Bartocini che sarà protagonista domani sera E domenica del quadrangolare di volley spirito di squadra Con Scandicci, Firenze Soprattutto le campionesse d'Italia di Conegliano Veneto Di scena a Gubbio Alla Polivalente Il prologo lo ricordiamo stasera Con la presentazione alle 21 del libro di Miriam Zilla Alla Sperelliana Torniamo al calcio Fere, Catania, sfida impossibile La Ternana deve migliorare a Liberati I siciliani non hanno mai pareggiato E sono criticati Gallo è primo da solo Camplone vanta il miglior attacco Ma fuori casa è riduce da 3K Il Gubbio che invece domenica va al Mapei Stadium La prima gara nello stadio del Patron Squinzi a pochi giorni dalla sua scomparsa Contro la Reggiana Slide indoors Alvini Tecnico reggiano Battere il Gubbio dice Lui che è stato vicino al Rossoblu in estate Parla di un club serio Parlando appunto del Gubbio Il tecnico E l'allievo sbaffo Un vero lusso per questa categoria Dice il trainer Sono ben sei gli ex in campo Un solo successo tra i precedenti Tra questi ex molto rimpianto Dobbiamo dire soprattutto dopo questo inizio stagione Il centrale difensivo Especie Conti intanto va in prova Con il Montone L'ex Ternana è Varese Mentre Spoleto preso il bomber Priorelli Questo per il mercato dei dilettanti C'è la consuetta pagina del venerdì Dedicata agli arbitri Umbri Le Orsini perfetto Scatta la corsa per i cai scambi Mentre Triathlon Iron Man Federici alla finale mondiale Nelle Hawaii Il trentenne della Terni Marathon Uno dei 45 italiani in gara Domani invece a Citerna Per il ciclismo Il giro dei paesi Memorial Amantini Questo per il Corriere dell'Umbria Che ci ricorda anche che stasera È tempo di derby Nel basket Foligno Perugia Il Palapaternesi Si illumina alle ore 21 Lasciamo definitivamente il Corriere Andiamo alla Nazione Fere prove generali Anti Catania La Ternana vuole vincere in casa Gallo studia la formazione Da mettere in campo domenica Gubbio intanto al Mappei Contro la Reggio Audace Un ex della gara Sarà appunto sbaffo E poi c'è spirito di squadra Gubbio la capitale Della pallavolo femminile Azzurra Tra domani e domenica Ricorda le 15 La prima gara Domani Firenze Conegliano Alle 18 Scandicci Perugia Ancora possibile Acquistare i biglietti In prevendita Ovviamente Le vincitrici giocheranno La finale domenica Alle 18 Le perdenti La finalina Del terzo posto Domenica Alle 15 Ancora calcio Foligno Domani L'anticipo Col tutto cuoio Al blasone Mentre Narnese Garofoli Dice la sconfitta Acqua passata Guardiamo Avanti E poi La Ternana Toccaferro Quel gol ci portò in B Siamo al Messaggero 27 anni fa Vince automaticamente Il campionato Proprio contro il Catania Torna la sfida Liberati E si rievocano Ricordi Qui Clagluna L'allenatore Di quella Ternana Solo Claudio È capace di lasciarmi Senza fiato Dice l'attaccante Delle fere Partipilo Che si è sposato Il 13 giugno Amo la famiglia E il calcio Foligno C'è la formazione Tipo Armilei Può finalmente Mettersi alle spalle L'emergenza Con il tutto cuoio Pronta la difesa 4 E poi davanti I settimi trequartiste La coppia Peluso Arras Infine Spoleto Con l'Orvetana Si trasloca A Bevagna Pincione condannato Per il caso Pescara Infine Charity Bike Tour Che festa Con Cassani Bettini Macchia Cipollini A Umbertide Come detto Domani ne parleremo Nel TRG Plus Delle 20 e 45 Chiudiamo Per gli appassionati Di rugby L'appuntamento Di questa mattina Alle 11 e 30 Anzi Alle 11 e 45 Dal Giappone L'Italia si gioca L'accesso ai quarti Di finale Contro Lo squadrone Del Sudafrica Torna a Parisse Per la partita Della vita Dando per scontato Il primo posto Della Nuova Zelanda E spareggio Con Appunto I Sudafricani Per passare Il turno Forza Azzurri È il caso Di dire È tutto Per questa La nostra rassegna stampa Con l'informazione Che tornerà Alle 13 e 30 Con la replica Del TRG Plus Stasera Dalle 19 e 30 I nostri TG TRG Comprensorio TRG Sport E TRG Plus Grazie per essere stati con noi Continuate ad esserlo Anche sul sito TRGmedia.it A voi tutti Una buona giornata